Dopo mesi di DPCM che prevedevano restrizioni, chiusure e limitazioni, l'inizio della campagna vaccinale ha segnato una svolta verso l'allentamento progressivo delle misure di contenimento del contagio. L'Italia colorata di rosso e di arancione rafforzato lascia spazio all'Italia vestita di bianco, almeno per i suoi due terzi. Alle regioni in zona bianca, ossia Liguria, Umbria, Molise, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna, si aggiungono da oggi anche Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, provincia di Trento e Puglia. Sono 40,5 milioni gli abitanti di queste regioni che, pur mantenendo alta la soglia di allerta, possono finalmente salutare il coprifuoco e molte altre limitazioni. L'occupazione tornerà a crescere. Secondo quanto è riportato da Banca Italia in un comunicato, a partire dal secondo trimestre del 2021, il numero di occupati in Italia crescerà e già si possono evidenziare i primi segnali di inversione della tendenza negativa che ha caratterizzato tutto il periodo acuto della pandemia. Dopo una diminuzione media dell'1,2% nella media del 2021, la Banca d'Italia ritiene che entro il 2023 l'occupazione ritornerà ai livelli pre-Covid, così come il numero di ore lavorate. Da parte dell'EMA sono attesi entro l'estate i primi dati su alcuni dei vaccini finora approvati in Europa nel contrastare le varianti del coronavirus e sulla necessità di somministrare eventualmente una terza dose di vaccino. A dichiararlo è il coordinatore della Task Force Vaccini dell'Agenzia Europea dei Medicinali, Marco Cavaleri, spiegando che è un tema sul quale stanno già lavorando con le aziende produttrici dei quattro vaccini finora approvati. Ad aprile 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia aumentato dell'1,8% rispetto a marzo dello stesso anno. A renderlo noto è l'Istat, che comunicando i dati rilevati aggiunge che è il quinto mese consecutivo di crescita congiunturale, superando così i livelli pre-pandemici di febbraio 2020. Nel confronto annuo, tenendo conto del dato eccezionalmente basso di aprile 2020, dovuto alle restrizioni e alle chiusure, l'indice complessivo ad aprile 2021 guadagna il 79,5%. Tutti i maggiori settori delle attività economiche hanno visto degli aumenti su base tendenziale. La crescita più ampia la registrano i settori delle industrie tessili, di abbigliamento e accessori, che guadagnano il 363,2%. La fabbricazione dei mezzi di trasporto segna un più 327,3%, mentre le altre industrie guadagnano il 160,9%.